C'è un aumento, questo è dovuto all'antropizzazione di questi animali che si avvicinano sempre di più anche alle città e occorre prestare attenzione alla guida, molta attenzione, specialmente in quelle zone non illuminate come purtroppo il teatro dell'incidente di sabato sera. Aumentano cinghiali e caprioli sulle strade di Arezzo e di conseguenza sale anche il numero degli incidenti causati direttamente o indirettamente da animali selvatici, con conseguenze talvolta drammatiche. L'ultima tragedia si è consumata lo scorso sabato a Salleo, frazione alle porte di Arezzo. Un settantenne argante sinatti è morto dopo essere stato colpito da un pullman di linea. L'uomo si era fermato per spostare la carcassa di un capriolo investito. Era quasi arrivato con l'animale, probabilmente non si era accorto che la sua posizione era tale da influire sulla marcia dell'autobus. C'è stato questo contatto fra il deceduto e la parte anteriore destra dell'autobus determinando la morte sul colpo del signore che stava molto urbanamente facendo un'attività di aiuto agli altri automobilisti. Intanto questa mattina è stata eseguita la ricognizione cadaverica sul corpo della vittima. La procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale indagato come atto dovuto l'autista del pullman.